Oroscopo del giorno, lunedì 26 agosto 2019 Ariete Amore, qualche imprevisto sul fronte sentimentale vi farà riflettere sulla vostra storia. A molti del segno darà lo spunto per iniziare a guardarsi intorno. I single faranno tante conquiste e molte potranno essere importanti. Lavoro I vostri recenti sforzi sul posto di lavoro vi daranno finalmente i guadagni tanto meritati. Toro Amore L'amore va a gonfie vele e sarete sorpresi della vostra disponibilità e spontaneità. Di solito siete più sobri e meno frizzanti, ma i sentimenti e la passione a volte fanno miracoli. Incontri straordinari per i single. È giunto il momento di tornare a sorridere. Lavoro Sarà una giornata leggera sul lavoro per i nativi del segno. Finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo. Gemelli Amore La giornata scorrerà tranquilla e potrete vivere momenti di alta intensità con la persona amata. Se avete qualcosa da chiarire è un buon momento. Siete abbastanza disposti ad ascoltare. Giornata poco entusiasmante per chi è solo. Qualche amico potrebbe deludervi. Lavoro Sarete dell'umore giusto per portare avanti nuovi progetti e lavorare con molto entusiasmo. Cancro Amore Alcune incomprensioni con il partner vi metteranno di malumore. Però non disperate. Si tratta di un momento passeggero. In serata l'intesa sarà migliore di prima. Per i single sono in arrivo alle tanti sorprese su tutti i fronti. Lavoro Oggi purtroppo il lavoro non andrà come previsto e vi sentirete delusi. Tuttavia fatevi coraggio e andate avanti. Leone Amore Se non avete ancora superato una delusione adesso è venuto il momento di voltare pagina. L'oroscopo consiglia di guardare avanti e lasciarsi alle spalle il passato. Anche i single dovranno mettere un punto alla tristezza se vogliono raggiungere la serenità. Lavoro Avrete tante idee in testa da mettere in atto. Da ora in poi potrete guadagnare la stima dei vostri superiori. Vergine Amore La giornata si preannuncia piena di sorprese. In amore ci saranno emozioni nuove e intense e molti potranno fare progetti a lunga scadenza. I single non devono avere fretta di incontrare l'amore. Quando verrà lo riconoscerete subito. Lavoro Lavoro Il settore lavorativo è al top. Non avete paura delle sfide e cercherete di svolgere i compiti più difficili. Bilancia Amore Qualcuno oggi deciderà di tenere lontani parenti e amici che cercano di mettere zizzania nella coppia. Avete bisogno di frequentare persone sincere che non creano tranelli per ingannarvi. I single dovranno uscire e accettare gli inviti se vorranno conoscere qualcuno. Lavoro Oggi avete bisogno di aiuto per portare a termine alcuni progetti lavorativi che non potete affrontare da soli. Scorpione Amore Molti scorpione che sono in coppia oggi riusciranno a superare le incomprensioni e vivere serenamente la giornata. In serata vi lascerete andare alle emozioni e anche i single si rilasseranno in compagnia di nuove conoscenze. Lavoro Oggi dedicherete buona parte del vostro tempo ad un progetto lavorativo che state affrontando con grande tenacia. Tagittario Amore In amore potreste vivere momenti di nervosismo a causa di alcuni dubbi sul partner che vi assillano da tempo. Non date retta alla gelosia e abbiate più fiducia nella persona amata. I single dovranno fare chiarezza nel loro cuore prima di giudicare. Lavoro Sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti inevitabili a cui non potrete sottrarvi. Capricorno Amore Oggi dovrete fare chiarezza sui vostri sentimenti e dare il giusto peso alla vostra relazione. Se avete bisogno di attenzioni da parte del partner non esitate a chiederle. I single potranno godere di influssi favorevoli durante tutta la giornata. Lavoro Anche se faticherete a riprendere i ritmi lavorativi troverete come sempre le soluzioni agli ostacoli che incontrerete. Acquario Amore In amore ci saranno tensioni e litigi che metteranno a retentaglio l'umore. Non siate scontrosi con la persona amata ed evitate di far vedere il vostro lato peggiore. I single potranno dedicarsi invece ai nuovi incontri nella speranza di trovare l'amore vero. Lavoro Oggi potranno esserci scontri con i colleghi. Avrete poca voglia di comunicare e questo susciterà critiche. Pesci Amore Sarete pieni di energia e il vostro fascino intrigherà la persona che desiderate. Tuttavia tenete i piedi per terra ed evitate di fantasticare troppo. Se siete single avrete voglia di fare nuove esperienze e vivere come desiderate il futuro. Lavoro Giornata proficua per il lavoro. Sono in arrivo proposte interessanti che ripagheranno dei sacrifici passati. Sarete pieni di grazie se il video ti è piaciuto metti mi piace registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti Grazie